Un felice inizio di settimana a tutti voi da Marcus, buon lunedì pomeriggio 12 febbraio, domani sera un'altra estrazione, quella del martedì 13 febbraio, nuovo video, nuovo pronostico per due ruote, un solo ambo, l'ambetto e poi la quartina, un po' come quella che abbiamo giocato la settimana scorsa. Allora, è inutile che vi rispiego sempre le stesse cose perché poi l'incazzatura sale, poi perdo la pazienza e poi ci risiamo. Quindi per non problemizzare guardate in silenzio cosa succede sulla ruota di Venezia e poi non ditemi se uno non si deve incavolare. Allora, 75, 8 febbraio, siamo giovedì, guardate a estrazioni consecutive anche in questo caso la previsione come viene spezzettata, quindi rateizzata, io lo chiamo rateizzazione numerica. Sì perché a questo punto mi viene da parlare così perché la previsione quando viene sviluppata una previsione da sottoscritto è talmente precisa, calibrata che sembrerebbe quasi impossibile che non esca. Comunque guardate i numeri come arrivano, tutte ambate che arrivano su Venezia, 75 giovedì 8, il 7 venerdì, il 5 sabato, cosa manca adesso? il 62, il 62 che fra l'altro presenta ancora questa situazione. Ci sono 2,62, la loro frequenza è perfetta, quindi questo 62 anziché giocare di 78 su Bari. Ma cosa state a spendere soldi in continuazione su Bari con sto 78? Ma io vedo ancora, di nuovo, quando vado dal tabaccaio a giocare, i numeri, persone che ci buttano 150, 200 euro all'ambata. Ma vi rendete conto di quello che state combinando. E poi si indaccate per una condizione che viene giocata per qualche corpo su due ruote, un ambo solo e così via. Le ambate con l'ambata contata, non dico che sono al 100% garantite, però ragazzi avete visto i numeri che escono tutti, escono tutti. Voi pensate se allora giocate un solo numero su una ruota, magari su due, cosa avreste guadagnato fino adesso? Il 75 è uscito subito su Venezia, vi ricordate? Ve l'ho dato anche in quarta posizione, è uscito subito. Questo 62, questo 62 è ancora aperta la condizione, per dire, no? Però adesso non voglio entrare nel merito, ma perché poi diventa lungo. Allora, 62 Bari e Venezia, vedrete che adesso dopo il 75, dopo il 7, dopo il 5, ficcheranno il 62. Quindi questo potrebbe essere già un piccolo pronostico per coloro che vorranno giocare un numero solo su due ruote. Le posizioni in rosso sono quelle più forti, comunque chiudo il discorso e non voglio andare in merito perché sennò poi non la finiamo più. Allora, poi il 7,62 che esce poi su tutte, veramente, manca solo 62 e basta. Allora, per quanto riguarda il 90, adesso andiamo a vedere di nuovo la questione del 90. Allora, qui abbiamo ancora queste condizioni, Venezia e poi Roma, quindi si rafforza Roma, si rafforza Venezia e quindi la classifica rimane questa. Genova, Roma, Torino, Venezia, si spera. Torino, Venezia, mi avete chiesto quel 9, 27,72,90. Ancora si deve giocare? Ma io ve la consiglio ancora due volte. Poi basta, se vedete che non esce, inutile continuare. Queste condizioni, quando si arrivano a 7, 8, 9 colpi, poi mollate lì perché sennò poi veramente diventa lunga. Comunque Torino, Venezia, ancora valida da 9, 27,72,90. Due colpi solo domani sera e poi giovedì. Stop. Genova, Roma, Torino, Venezia, queste sono le ruote che dovrebbero arrivare al 90. Occhio a sto Genova qua, perché vi ripeto, c'è il primo estratto della nazionale, di solito i primi tre strati vanno su Genova, Milano, Napoli. Infatti Napoli è già uscito, ma perché c'era la doppia condizione che vi feci vedere qualche giorno fa, Genova e Napoli. Genova comunque anche lei riceve doppia somma 90, più il 90 del primo estratto della nazionale, che dovrebbe ripetersi poi su Genova. Allora, detto questo, questa è ancora la condizione per il 90 della classifica. Poi Torino e Venezia avete ancora il 9, 27,72,90. Allora, passiamo subito al nuovo pronostico che è questo. Allora, dove l'ho messo, dove l'ho messo, dovrebbe essere qua. Quindi il 62 su Venezia e su Bari è molto forte. Vedrete che dopo la rateizzazione numerale, numerica, perché io lo chiamo così, ditemi voi come non la devo chiamare, questa rateizzazione numerale, perché la condizione era talmente forte che far vincere delle persone non andava bene. Va bene, chiudo il discorso perché già mi incendio. Allora, 62, questo potrebbe essere un pronostico già per Bari e Venezia, però la condizione è questa qua. Il 76, eccolo qua famoso, Roma-Torino, due ruote, terza posizione, come strato semplice. 76, terza posizione, è come strato semplice. Andiamo a vedere un attimino la frequenza. Questo è il nuovo lotto esperto, eh? Questo l'ho già preso da Roberto, è veramente bello, bello come è già aggiornato, c'è qualcosa in più, mi sembra. Adesso poi ve lo dirà Roberto, quindi se siete interessati andate a chiederlo a Roberto, perché ne sta dando veramente tanti di questi, eh? Quindi fate voi. Allora, Roma, andiamo a vedere un pochettino Roma. 76, bello 76 di Roma, eh? E poi Torino, guardate Torino che bello. Quindi siamo in armonia numerica proprio come statistica, quindi 76 molto molto bello. Primo ambo da giocare 34-76. Occhio ai vertibili, perché possono arrivare anche i vertibili. Quindi la lunghetta col 34-43-67-76 e la si dovrebbe mettere perché possono arrivare anche i vertibili. Domani sera primo colpo di gioco, vediamo. È già una condizione portata avanti, mi sembra, di qualche colpo, quindi l'ho scelta apposta e quindi attenzione a questo 76 Roma-Torino. Avete visto le livellature delle frequenze, quindi siamo in una buona sortita, eh? Quindi ottima previsione, unico ambo, 34-76, Roma-Torino. Poi se volete fare tutto in nazionale, quello va sempre a vostra discrezione. Ma le ruote di calcolo sono proprio Roma-Torino. Lambetto, ormai lo sapete, perché se vi è c'è lambetto, almeno recupero c'è. Vediamo cosa succederà. La domani sera, primo colpo di gioco, la lunghetta, 34-43-67-76. Avete tutto sotto mano. Quindi questa è una condizione che si parte da domani sera, primo colpo di gioco e via. Ok? 76, terza posizione, come unica posizione più forte, poi estratto semplice e quindi qua avete già un pronostico per lambata. Poi vi ripeto, c'è anche questa situazione. Il 62, avete visto? Ma perché ve lo dico? Avete visto cosa è successo con il 75, no? Eccolo qua. Primo colpo è arrivato il 75. Questo 62 vedrete che uscirà sul Bari Venezia. Io lo spero, non c'è niente di certo, però la condizione c'è. Andiamo a vedere un attimino con l'8++, dai. Andiamo a vedere il Venezia, 62. Guardate qua. Guardate qua. Sono i piani alti, ma siamo al limite, eh? Poi per Bari 62 è uguale, vedete? Piani alti, sempre un limite di sortita. Quindi potrebbe essere anche buono il 62. Le posizioni rosso ce le avete, perché mi avete chiesto anche un pronostico con le ambate. Eccole qua. Le posizioni rosso sono quelle più forti. E mi avete chiesto, ma non la giochiamo più? Sei sicuro? Ma sulla nazionale non è uscito il 75, 57, 62 e 75. Possiamo di giocarla sulla ruota nazionale? Potete sì giocarla anche sulla nazionale. Anche perché rivedendo i colpi di gioco, domani sera siamo a 8 colpi, 9 colpi giovedì. Dopodiché camminare. Va bene, come dico sempre io. Camminare. Quindi se volete giocare anche a questa condizione qua, sulla nazionale, no, questa no, aspettate. Se volete giocare ancora a questa condizione, sulla nazionale ancora due colpi. Ma non di più, perché sulla nazionale non è uscito ancora nulla. È vero che si possono ripetere anche sulla ruota di Venezia, per carità. Però l'unica cosa che vi raccomando, è inutile giocare e stare lì e giocare in continuazione i stessi numeri. Può anche darsi che sulla nazionale possa uscire la quaterna. Adesso l'ho detto, poi c'è da vero. Però magari un occhio sulla nazionale dateglielo. Condizione nuova, quindi questa 34, 76, Ambo base, Ambetto e poi la lunghietta e 76 nella terza posizione su Roma Torino. Poi, ultimo riquadro, Genova, Roma, Torino e Venezia. Ancora, vi ripeto, per coloro. Io sto dicendo sempre per coloro che me lo chiedono. Sul Torino e Venezia ancora due colpi, anche questa. Poi basta. Si arriva tutto a nove colpi. Poi dopo quei nove colpi potete fare quello che volete. Ma io fino a otto o nove colpi puoi camminare, perché se non esce nulla è inutile. Torino e Venezia, nove, 27 72, 90 e consigliata ancora. Però, vedete voi, questa lascia il tempo che trova. Comunque, vabbè, avete visto cosa è successo su Venezia? Quei famosi 77, 79, 90 ancora da uscire. Comunque pronostico nuovo, si volta a pagina è inutile stare a riscaldare le stesse minestrine e via 34, 76 buon lunghetta, si comincia da domani sera e camminare. Vi abbraccio buon prossimamente di giornata e poi ci risentiamo al prossimo video. Ciao e speriamo in bene e che questa volta non siano rateizzati rateizzati i numeri devono uscire insieme non rateizzati buona giornata a tutti ci risentiamo al prossimo video ciao ciao ciao